Romina Carisi Chiari Carisi e Crystal Carisi Rispetto ai fratelli, Romina ha avuto un ruolo più marginale gestendo il tutto dietro le quinte Nonostante questo però la più piccola di casa Carisi ha saputo ugualmente farsi notare attirando l'attenzione dei telespettatori e del pubblico social In particolare ha fatto tanto divertire un filmato in cui Romina Power stringe dei fiori regalategli da Albano A questo punto Romina Carisi consiglia alla madre di non farsi fregare visto che dietro quel regalo potrebbe nascondersi un secondo fine Naturalmente si tratta di una scenetta divertente in cui Romina Carisi è tornata a ricoprire i panni di attrice Romina Carisi e Romina Power, non ti fidare.Te le ha regalate lui, eh? Lo sapevo Tu quell'uomo non lo conosci come lo conosco io. Se papà ti invita ad andare campagna a vedere la sua collezione d'ulivi, tu non ci andare, non ti fidare Sono uomini del sud, sanno esattamente cosa vogliono. Non farti fregare un'altra volta dice un'ironica Romina Carisi alla madre Romina Power che sul finale del video ride sorniona Un breve filmato che nel giro di pochi giorni ha totalizzato 17.000 lì che è quasi 300 commenti tra cui siete molto brave tutto a sorella e iari Anche perché umili, Romina tesoro mio bello, vorrei tanto sapere e vedere i tuoi meravigliosi genitori di nuovo insieme Lo spero con tutto il mio cuore. Ciao cara e tanti altri. Clicca qui per vedere il video . Romina Carisi e Cristal Carisi.Ironica come sempre, Romina Carisi in queste ore è tornata nuovamente sui social con una nuova divertentissima storia Dopo il video ironico in cui prende in giro Papa Albano, questa volta la più piccola di casa Carisi ha avuto una piccola discussione con la sorella Cristal Carisi per una questione di beige Vi state chiedendo di cosa si tratta? Bene, su Instagram è possibile ricevere una spunta di colore blu vicino al nome, che rappresenta la veridicità dell'account Cristal Carisi ha ricevuto questo beige proprio nelle ultime ore e questo ha scatenato la gelosia della sorella Romina che ha rosicato con tanto di botta e risposta poi pubblicato su Instagram L'ennesima dimostrazione di come le due sorelle Carisi siano unite e complici anche in delle piccole questioni di vita social Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità, grazie per non perdere le novità, grazie per non perdere le novità